Ti disturbo? No, no, stai tranquillo Ti disturbo? No, no, stai tranquillo Ti disturbo? No, no, tranquillo Mentre hai la fretta? Poi un giorno vi svelerò tre cose importanti su di me per capirmi più profondamente Numero uno Non mi piace sbucciare la frutta come non piace a voi Numero due Fare le pulizie non è un mio hobby No, questa è una magia Non ci crede nessuno